Good evening! Disturbio? E spero veramente il giorno di conoscervi. I grandi, grandi autori di un video che mi ha fatto venire i brividi. E dove vi porto? A Vallelis, per favore. Uff, two balls. Raya! Champagne! Toccami e ti risponderò. Oh, albero della sapienza. Gli abitanti di Vallelis, raga. A volte un albero è più saggio di un uomo. Perché io mi sono veramente commosso. È bellissimo, grazie. Non me lo aspettavo veramente tanto. Mi sto commuovendo ancora adesso, veramente. Gli abitanti di Vallelis ci sono. Ciao ragazze! Finalmente siamo due nonne libere! È molto bello, avete raccolto tutte e tante scene stupende mie. Dalla saggia alla diapolica. Deguste bus! Ciao! Ciao ragazzi! Gli abitanti di Vallelis, un bacio! Dai, Mendy! Oh, I go to the bathroom! Gesù in Parisiano. And back? Eh no, eh! Eh no! Devo chiamare la neuro, devo chiamare la neuro! Ciao abitanti di Vallelis! Cos'hanno sentito i miei padiglioni auricolari? Pagioni! Pagioni, ceci! A voi, abitanti di Vallelis, è concesso tutto. Mi sembra proprio una cagata! Guarda! Gabriela! Gabriela! C'era è davvero una bella foto vostra e di tutti gli abitanti di Vallelis? Eh ragazzi, non lo so se lo sapete, ma anche io, oltre che a Rugano, abito a Vallelis. Potrei mancare da Vallelis, assolutamente no. Ci vediamo lì. Salve, è con un vero piacere che con me fai un saluto e l'augurio a tutti gli abitanti di Vallelis. Un buon calore adesso. Ciao abitanti, anche Wenz è un abitante di Vallelis. Papà! Buonasera, qui sono io, Conte Mazzoni. E anch'io vivo a Vallelis. Ciao, anch'io sono un abitante di Vallelis. Vi mando un grande saluto. Ciao, anche io sono un abitante di Vallelis. Anche il Markish è un abitante di Vallelis. Il potere della musica. Ciao a tutti, sono Iloia e volevo fare un bel saluto a tutti gli amici di Vallelis. Ciao ragazzi, anch'io vivo a Vallelis. Un saluto a tutto il cast di intriga e passioni dal vaso caricaturista e artista Albi Albe. Ciao! Anch'io sono un abitante di Vallelis. Voi non lo sapete, ma anche io vivo a Vallelis. Un saluto a tutti. Anche noi siamo di Vallelis. Tanta roba. Anch'io sono di Vallelis. Sono Enzo del Collegio. Volevo mandare un grande abbraccio e un saluto a tutti gli abitanti di Vallelis. Anche noi siamo abitanti di Vallelis. Anche noi siamo abitanti di Vallelis. Un saluto da Susanna e Emma. Bye bye. Ciao dal fan club della Fig. Anche noi vi chiamo a Vallelis. Ciao! Questo è il servizio. Questa è diventa secca. Ma ti faccio fare un tuffo nella vita o ti faccio fare un corso con le nuve? Lei vuole conoscere la mano di questa persona. Perché siete fantastici. Rendete vivo il personaggio. Stai bene, stai bene, stai bene. Sono felice, sono felice! Che good smell. E che good assista. E che good assista. E che good assista. Perché ricordati che nessuno la fa ad Elisabeth Preston. Stasera mi sa che il calma plus lo prenderà uno di voi. O forse tutti. Da 800 milligrammi però. Come direbbe Maria? Urca!